Salve cari amiche e cari amici, ho sentito parlare che si sta approvando il reddito di cittadinanza e già si è messa a fare la fila un bucchio di gente e io avrei dei quesiti a riguardo. Come funziona questo reddito di cittadinanza? A chi lo danno? Lo danno ai disoccupati, a chi non ha lavoro, a chi guadagna poco, a chi lo danno a questo reddito di cittadinanza? Perché io non avrei bisogno, avrei bisogno di questo benedetto reddito di cittadinanza, ma ho fatto richiesta, ho scritto da qualche parte e non mi hanno risposto, dove bisogna andare? Io vedo che c'è tanta gente che fa fila di qua, che fa fila di là, che fa fila su, che fa fila giù, ma veramente a me non so, non mi danno letta. Voi cosa ne consigliate di fare? Dove che danno questo benedetto reddito di cittadinanza? Perché vi ripeto, io ne avrei tantissimo bisogno, ma poi quante sono? Quanti sono? 5.000 a 10.000 euro? Perché voglio dire, non è che ti possono dare 100 euro, devono essere un po' di euro. Io avrei bisogno, per pagare tutte le mie spese, almeno di, non dico 1.000 euro, 10.000 euro al mese per pagare tutte le mie spese, capito? E quanto ti danno di reddito di cittadinanza? Non lo so, comunque dovrebbero dare lavoro più che reddito di cittadinanza, ma visto che il lavoro non c'è, e allora abbiamo sto reddito di cittadinanza. Io voglio essere il primo a prendere sto benedetto reddito di cittadinanza. Voi cosa ne pensate? Quanto di mano sarà? Fatemelo sapere. Grazie.